Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Calenzana e Bivia 1 Variante in direzione di Bologna. Dalle 21 di questa sera alle 14 di domani 26 novembre in a 12 tratto chiuso per lavori tra Sarzana e Carrara nei due sensi di marcia, deviazioni in loco. Uno sguardo alle statali su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per cantieri tra Monteriggioni e Badesse nei due sensi di marcia. Ricordiamo inoltre l'obbligo di catene a bordo o dotazioni invernali su gran parte delle strade della Toscana, l'elenco completo sui nostri canali social. In chiusura per il traffico aereo il volo Pisa-Francoforte delle 15.40 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 16.25. Muoversi in Toscana infine un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!